bene continua la nostra maratona abbiamo qui Giorgio Mocchi di Forza Italia e fino a qua lo possiamo dire e appoggia spacca e qui c'è qualche problema a pronunciare questa parola ovviamente Mocchi prima di capire chi è lei e iniziare la nostra discussione lei mi deve spiegare questa faccenda di questo spacca sì no si può dire anche perché sennò poi come fanno a votarla se non mettono la X dalla parte giusta questa è la prima cosa che mi viene in mente a lei questa risposta innanzitutto io faccio parte di un partito che ha preso delle decisioni e non essendo un volta gabbana non è che cambio partito perché il partito ha preso decisioni sbagliate in un momento i principi ispiratori Forza Italia cioè liberismo economico l'impresa per le nostre realtà io ritengo che sia una dei principi da sposare e li ho sposati se in una fase storica del partito vengono prese potrebbero essere prese delle decisioni che apparentemente sembrano sbagliate io non ritengo di dover cambiare partito eventualmente mi sedevo da una parte aspettavo tempi migliori però ragionandoci dopo e avendo conosciuto spacca e avendo avendolo incontrato e interlocuito con lui e anche ieri nella conferenza stampa che c'è stata a Pesaro spacca ha dato le sue ragioni e tutti quanti noi candidati ci siamo anche fatti forza di questo e abbiamo ritenuto abbiamo confermato la nostra la nostra idea di proseguire in questa lotta per la conquista di un ma più che altro la conquista di una regione ma non della regione per andare ad amministrare per fare clientela nella regione per andare ad amministrare la regione per trasformare l'idea di regione regione come oppressione verso verso i cittadini la tassazione e quant'altro dando più libertà all'impresa purtroppo viviamo in una fase storica in cui se noi non sciogliamo la celatuoli della burocrazia e di tutte le problematiche che si ritrovano attorno le aziende ogni giorno noi purtroppo andremo a finire molto male e spacca ci ha dato forza in questo perché lui il suo progetto Marche 2020 è partito tre anni fa quindi quando ha già iniziato diciamo la rottura con il PD e nell'ultimo anno questa rottura si è molto incrementata finché proprio ha deciso di presentare un progetto e tutti quelli che volevano aderire a questo progetto hanno sposato la causa e quindi Forza Italia aderito a questo progetto io quindi mi sono trovato in un partito che inizialmente ritenevo che avesse preso delle decisioni sbagliate invece mi sono fatto forza dopo aver sentito spacca dopo avermi confrontato con lui e spacca sta girando la nostra provincia perché ricordiamo la nostra provincia è la seconda più popolosa della regione Marche 365 mila abitanti contro i 470 mila di Ancona e le altre province molto più piccole il 65% della popolazione nella regione Marche è nella provincia di Ancona e di Pesano ok quindi poi entriamo dopo in questi dettagli quindi in sostanza c'è la compatibilità dei programmi di Forza Italia Marche diciamo così e con spacca c'è la compatibilità dei programmi perché diciamo è stata creata una coalizione sul programma quindi spacca ha detto tutti quelli che hanno a cuore questo programma possono stare con noi a questo punto noi ci siamo il partito sia adeguato io purtroppo non ho preso parte nei momenti decisionali e quindi non mi sono adeguato alle decisioni prese dal partito che con il seno di poi devo dire che hanno dato una scelta sofferta di un primo momento però diciamo in via di chiarimento possiamo dirlo in questa maniera si sta chiarendo sempre di più e quindi abbiamo tutti noi candidati abbiamo sposato questo progetto e stiamo lavorando per fare in modo che ci sia il questo cambio di passo diciamo in regione ok ok bene io inizierei quindi beh lei è abbastanza conosciuto però ovviamente magari qualcuno non la conosce grazie per molto conosciuto quindi incominciamo a capire chi è Moki dunque io sono nato a Pesaro però ho sempre vissuto i primi anni della mia vita a Piobico poi l'università a Bologna ho studiato poi i superiori a Pesaro l'università a Bologna e dopo i primi anni di esperienza laurea in agraria scienze della produzione animale dopo i primi anni di esperienza nell'azienda agricola ho ritrovato opportuno aprire un po' gli orizzonti e sono stato sono andato a lavorare a Milano come funzionario dell'associazione industriale delle carni Assica che è un'associazione aderente a Confindustria dopodiché sono stato demandato all'ufficio di Roma che è proprio dentro Confindustria quindi nel palazzo di Confindustria per i rapporti con le istituzioni romani quindi ministeri, parlamento, tutti gli enti di istituzioni romani e da lì fino a 42 anni io non ho mai visto un consiglio comunale e siccome a Piobico nel 2004 si tenevano le elezioni io sono sempre stato molto legato al mio territorio tant'è che ero presidente di un'associazione culturale che aveva organizzato molti eventi facendo venire anche molti personaggi a Piobico mi chiesero di candidarmi, ci pensai su parecchio e il primo mandato, le prime elezioni vincemmo proprio di misura essendo dopo tanti anni l'amministrazione della sinistra il secondo mandato vincemmo con un buon risultato e il terzo migliore ancora quindi è stato un crescendo rossiniano direi quasi ho capito quindi io vengo dalla parte produttiva rimango ancora nella parte produttiva ok, quindi non si può dire che comunque non conosce l'entroterra e i suoi problemi assolutamente quindi ecco, cominciamo magari a dare un'infarinatura generale cioè, per quale motivo? no? la domanda più demagoga che mi viene in mente da una tv demagoga come la nostra è questa cioè, spacca ha governato fino adesso sì è vero, alle alleanze diverse eccetera ecco, dovesse vincere quindi ancora spacca anche se, ripeto, ci sono cambiate le alleanze per quale motivo ci potrebbe essere qualcosa di nuovo? se ritengo che ci potrà essere qualcosa di nuovo quando qualora dovesse essere eletto speriamo il presidente spacca l'attuale presidente spacca in quanto non ci sarà più una coalizione in cui il partito egemone cioè il PD detta detta l'agenda e detta detta tutto quanto perché ricordiamoci che il PD tant'è che quest'anno in questa in questa tornata elettorale il PD quasi a parte qualche piccolo cespuglio però è una lista del PD e quindi il PD comanderà e farà tutto quello che vorrà qualora dovesse vincere quindi mentre prima c'era un po' più di pluralità perché c'era ricordiamoci che c'era diciamo la parte più popolare margherita del PD e c'era la parte più a sinistra e adesso la parte più i moderati del PD sono usciti e hanno creato questo movimento che è area 2020 area popolare 2020 e quindi poi sarà una io come dico io sarà una coalizione a trazione Villa Fastigi quindi Villa Fastigi comanderà ha comandato a Pesaro ha dettato diciamo l'agenda di Pesaro l'agenda della provincia e adesso qualora dovesse vincere detterà l'agenda della regione ho capito parliamo di lei ovviamente adesso entriamo più nella persona e quali saranno i suoi punti di forza se dovesse essere eletto ovviamente chiedo scusa quindi la conoscenza dell'entroterra come tv ci interessa valorizzare l'entroterra anche perché numericamente abbiamo anche dei problemi non è che vogliamo fare il conflitto con la costa però statisticamente anche i rappresentanti che riusciremo a portare in rappresentanza del nostro territorio saranno davvero pochi corriamo il rischio di non avere nessun rappresentante dell'entroterra e la cosa sarebbe gravissima perché in un momento in cui vengono abolite le province ci ritroveremo con una regione con la gran parte degli eletti che potranno essere della costa perché ricordiamoci che potrebbero essere veramente tutti della costa a quel punto il nostro entroterra cosa fa? ci troviamo in serie difficoltà adesso che ne abbiamo qualcuno figuriamoci dopo con l'assenza delle province adesso abbiamo un Presidente della provincia che è di Peglio quindi pressa poco qualcosa possiamo dire ma un domani che non ci sono più le province cosa sbagliatissima l'abolizione delle province ci ritroveremo veramente ecco partiamo partiamo un attimo da qui che è interessante il discorso io stesso ho cambiato idea io provengo me ne sono fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle ero uno di quelli che credeva assolutamente nell'abolizione delle province eccetera qualcuno può anche dire vabbè fatto in questa maniera però effettivamente forse era meglio tenerci le province e chiudere la regione come la vede lei da questo punto di vista? allora voi non so io ho scritto articoli ho mandato documenti a Roma ho tempestato di documenti tutti quanti secondo me è stato un errore di cui ne pagheremo le conseguenze nei prossimi decenni le province le ha create Napoleone le regioni sono state create dalla politica nel 71 e le province ricordiamoci che a parte le province quelle storiche non le otto province sarde o le province di cui sono state disseminate ma anche la provincia di Fermo non aveva senso ricordatevi che ogni provincia che è stata creata ha portato 18 uffici cioè la prefettura l'intendenza di finanza la questura il camando dei carabinieri il tribunale quindi 18 uffici si è portata dietro quindi dei costi non è solo il costo della provincia è tutto l'apparato burocratico girato nella provincia quindi l'abolizione della provincia io mi sono fatto carico scrivo anche nel giornale quello che andava non abolito trasformato in ente di secondo livello erano le regioni cioè la regione la regione che però bisognava accorpare tre o quattro regioni le regioni dovevano diventare sei sette massimo in Italia mantenendo il presidente della provincia il presidente della provincia andava a fare automaticamente il consigliere regionale a costo zero perché percepiva lo stipendio del presidente della provincia andava a fare il consigliere il consigliere regionale e la regione vietare la regione di legiferare vi ricordo faccio un esempio faccio sempre questo esempio banalissimo il porto di Gabice è a metà tra Gabice e Cattolica e nella regione Marche non è possibile dragare il porto perché bisognerebbe dragare portare i fanghi selezionarli un costo incredibile che nessun porto fa tant'è che i pescheri ci rifanno devono aspettare la marea la qualta per uscire e ha fatto un servizio ed è il porto la darsena di Fano è in rimessa perché non riescono ad entrare le barche tant'è che le barche più importanti le hanno portate a Rimini quindi voglio dire stiamo creando dei disservizi incredibili ma perché perché la regione Marche ha legiferato perché per portare mentre in Romagna prendono i fanghi li portano 10.000 li scaricano e risolto da noi questa cosa non si può fare creando un danno incredibile sono di rimpettaie c'è un fiume che separa cattolica quindi da una parte si può fare dall'altra no quindi togliere la possibilità alle regioni di legiferare queste macro regioni i presidenti di provincia partecipavano ai consigli regionali in cui si dividevano parlavano di infrastrutture grandi infrastrutture i fondi comunitari questi temi di più largo respiro assolutamente non legiferare perché abbiamo visto il 40% dei costi dello Stato sono aumentati tra il 71% per causa delle regioni quindi figuriamoci e in più però dare più potere al presidente della provincia cioè io voglio che quando succede qualcosa devo sapere chi ha sbagliato faccio l'esempio a Genova tutti si arrabbiano con il sindaco ma il sindaco lì è una c'è una concausa perché c'è i consiglieri regionali che non hanno legiferato per fare in modo di pulire i fiumi come da noi d'altronde i consiglieri la provincia non è intervenuta l'autorità di bacino paradossalmente ci voleva un po' di federalismo nel senso che se ogni comune ogni provincia era direttamente responsabile dei propri fondi cioè probabilmente le cose sarebbero diverse quantomeno sai con chi prendertela cioè se uno ha fatto una cappella almeno sai chi è mentre così i sindaci non c'hanno una lira devono inventare chissà cosa potrebbero averne con la pulizia dei fiumi peccato che non è possibile farlo perché il materiale andrebbe preso caricato nel camion e portato nel mare cioè io da piobbico carico il materiale nel fiume cioè la pide i sassi quant'altro lo carico in un camion lo porto a Pesaro e ma come faccio non c'è storia non posso farlo quindi anche questi interventi la regione purtroppo faccio un esempio per dire come gli equilibri in regione spacca tornando al problema di spacca spacca è dovuto stare in equilibrio tra le varie stanze dei i verdi che se non facevi come facevano loro rischiamo di far cadere la giunta e l'ala sinistra del PD e rifondazione comunista quando tu sei schiavo di tutti questi diciamo di tutti questi bavagli che non ti permettono di dire la tua alla fine non ce la fai più e sbotti e spacca da tre anni che ha creato questo movimento 2020 per dire signori cambiamo le cose e questo è un po' quello che dicevamo prima il fatto per il quale secondo me spacca ha deciso di candidarsi e per il quale noi abbiamo sposato questa causa ho capito c'è anche questo progetto delle macro regioni che adesso parlano tutti tutti stiamo aspettando questi famosi fondi legati a questa cosa per fare chissà che cosa per tirare su un po' il territorio ma quindi io devo capire una cosa cioè allo stato attuale oggi sta provincia i soldi per le strade ce l'ha o no? perché c'è una trasmissione di reporter che diceva praticamente guardate che voi ce l'avete i soldi per la gestione delle strade sembrava quasi non li sapete spendere noi abbiamo un problema grosso che la nostra provincia era una delle tre o quattro province rischio default perché era una di quelle che era stato peggio amministrato la nostra provincia adesso si è snellita di molto ma aveva quasi 800 dipendenti una provincia con 800 dipendenti ricordiamoci che gli stipendi costano eh certo faccio solo un esempio l'Asur Marche ha 22.000 dipendenti 3.000 medici 9.000 infermieri e 10.000 amministrativi questa è una cosa questi 10.000 amministrativi è una cosa assurda cioè qua bisogna mettere mano ma 22.000 dipendenti considerate voi fate le 22.000 per 40.000 che è il costo non lo stipendio del dipendente il costo medio di un dipendente della sanità medio perché abbiamo i primari abbiamo i portantini facciamo una media 40.000 calcolate voi sono 800 milioni di euro mi pare e quindi la sanità faccio un esempio banalissimo l'Asur Marche 22.000 dipendenti un milione e mezzo di cittadini il comune di Milano l'Asur di Milano che ha un milione e mezzo di cittadini ha 1800 dipendenti voi direte poi cosa fa fa gli accordi con i privati ma io voglio una sanità che mi curi non una sanità pubblica privata io vorrei una sanità pubblica che funzioni e sono convinto che con una buona gestione si potrebbe avere perché non si capisce non è che abbiamo a che fare con gente deficiente voglio dire persone all'altezza di amministrare un ente pubblico ci sono se vogliamo poi c'è la burocrazia c'è tutto quello che vogliamo però non posso credere che un ospedale pubblico non può essere gestito con la stessa efficienza di un ospedale privato questo che poi c'è il libero mercato se c'è un po' di competizione ci starebbe anche il problema qual è i burocrati il problema è sempre lo stesso il problema è italiano più che marchigiano è un problema generale comandano sempre gli stessi c'è per esempio io ho una dichiarazione qui degli agricoltori che ce l'hanno a morte con i burocrati ancora più dei politici dicono peggio dei politici questi burocrati praticamente no il politico passa e il burocrati è sempre lì ecco allora il problema quindi è una battaglia proprio di riposizionamento delle persone insomma cambiare questo sistema andando anche oltre i politici e non è facile non li togli i burocrati perché ogni nazione ha il governo che si merita gli italiani si meritano questo tipo di amministrazione quindi quello che bisogna fare bisogna partire a monte bisogna cercare di fare un po' di educazione civica insegnare un po' più di serietà anche alle persone perché ricordiamoci che in Italia negli anni 70 80 te votavi il tal partito perché c'era il ministro delle poste e tutti quanti quelli che volevano il posto i socialdemocrati amministravano le poste però in qualche maniera diciamoci le cose fino in fondo funzionava era un sistema sbagliato che ci ha portato poi a questo però avevi la tessera del sindacale entravi a avere il posto è sbagliatissimo il sistema ma funziona oggi non funziona più perché oggi le promesse rimangono promesse oggi nessuno può dare più niente a nessuno se non un giretto stretto di poche persone quindi però tornando al nostro discorso noi dobbiamo portare dobbiamo aggiustare le strade se no è inutile neanche parlare del futuro di agroalimentare di sviluppo di turismo cacchio se non hai la strada che è la prima cosa come ti arriva il turista ti ride in faccia ritorna indietro quando vede una strada così quindi sicuramente il primo secondo me ora come farlo non lo so non è mia competenza sarà un problema anche anche suo se riuscirà a passare trovare questi maledetti soldi per le strade costi proprio come primo obiettivo strade ma anche assetto ideologico idrologico scusate quello che non si vede è importantissimo però incominciare dalla strada innanzitutto come facciamo a fare subito un'operazione di questo tipo tanto quello che chiede il territorio ormai si ci lo chiedono tutti a portare poi si parlerà anche di sanità eccetera però intanto le strade come facciamo farà un bel problema l'emergenza numero uno secondo me è la viabilità la viabilità io dico sempre faccio sempre questo esempio uno dei poli industriali più grossi della regione Marche è a Lunano Pian di Meleto Belforte con delle aziende importanti con 3-4 aziende che fanno centinaia di milioni di fatturato ma io dico faccio sempre dico sempre a loro ma come voi siete dei santi voi siete dei geni ma come fate a fare industria reddito creare reddito perché poi dopo c'è un indotto incredibile in tutto il territorio con un disagio come quello che avete forse l'unica cosa che è stata fatta in questi ultimi 15 anni 20 anni è l'apertura della galleria che ha dato un po' di apertura tra l'unano io dico sempre che la viabilità non c'è molto importante sì la Fano Grosseto sì la Flaminia ma molto importante è anche la Pede Montana perché io che sono di più obbligo pensare di andare a bere la sera in un pub a lunano 20 anni fa non ci avrei mai pensato tra l'altro sembra che almeno se riusciamo se abbiamo la capacità di prendere questi fondi legati alle macro regioni eccetera se abbiamo questa capacità e speriamo perché in Italia siamo bravi a non riuscire a incamerare i fondi della comunità europea paradossalmente è più facile paradossalmente magari avere i fondi per un grosso progetto di viabilità piuttosto che magari trovare i soldi per la strada statale locale diciamo così allora comunque lavoriamo sul tutto anche su questo ma cerchiamo innanzitutto di trovare anche i soldi per aggiustarci la strada che ci porta da Pesaro nelle varie valli da Piobbico a Pesaro perché qua abbiamo dei problemi con un'occasione così ricominciamo anche a rispondere alle domande qual è il suo parere sulla galleria della guinza a prescindere dal discorso della E78 allora io ritengo che la E78 il progetto nuovo cioè il progetto presentato dalla variante il progetto ultimo di variante sia un progetto molto sbagliato questo lo criticano tutti ormai anche ci ritroviamo il mercatello sul metauro si ritrova sotto un viadotto se noi abbiamo una possibilità di sviluppo per il nostro territorio cioè lo abbiamo mantenuto per duemila anni e adesso d'amblè andiamo a rovinarlo solo perché allora dico una cosa ma perché io l'affanno grossetto l'ho fatta da città di castello verso Arezzo città di castello hanno fatto le quattro corsie fino a dove potevano arrivare a un certo punto a Palazzo del Piero c'è una rotonda e poi prosegue una strada a scorrimento veloce allora se non possiamo permetterci di fare almeno facciamo una strada a scorrimento veloce facciamo le quattro corsie fino a Fermignano fino a dove si può o sacrificheremo una fila di piante allargheremo quella che c'è terremo bene la strada perché poi la strada non è solo le quattro corsie e anche il mantenimento della strada perché oggi percorrere le strade provinciali perché purtroppo c'è da dire anche l'errore madornale che è stato fatto e maledico il giorno che è stato fatto passare dalle strade statali e prenderle in carico alla provincia quello è stato il grande errore che ha fatto Palmirucchielli che tra l'altro è una persona con cui mi confronto con il quale insomma siamo in ottimi rapporti però lì gli devo dire che ha fatto un errore madornale noi la strada la Pecchiese cioè la strada che riguarda parte da Qualagna Piobbico a Pecchio città di Castello era Anas era statale ed era tenuta perfettamente come lo è ancora la strada di Bocca Trabaria e guarda caso che vale Capute è una strada che i camion non possono fare mentre è provinciale la strada quella per Fermignano e quella per Fermignano bisogna tenere il volante con due mani ma forte perché è pieno di buche e allora già il mantenimento e per quanto riguarda l'altra mettere un semaforo secondo me sarebbe insomma quasi che non conviene bisogna cercare di eventualmente fare l'altro convincere la regione Umbria perché la regione Umbria sta facendo tutti gli investimenti nella zona di Gubbio quindi sta potenziando la Flaminia perché la Flaminia con 300 milioni di euro potremmo dare una risposta qua ci vogliono mi pare sui 4 miliardi di euro per completare tutta la Fano Grosseto la parte nostra ci sarà un miliardo mi pare di lavori da fare e quindi sono temi così grandi il sindaco di Sant'Angelo dice sempre quando ero bambino andavo all'asilo sentivo parlare di Fano Grosseto adesso ho quasi 60 anni e ancora Fano Grosseto non è stata completata un problema strettamente locale cioè tutti questi sindaci e a me mi sembra che non sempre riescono tra di loro a creare come si può dire gruppo per poi fare dei progetti anche seri tutti insieme da portare avanti o quantomeno sapere incamerare al momento che poi ci sono i fondi adeguati per poterlo fare perché capitano ogni tanto queste cose qui c'è molta diversità ognuno vede la sua eccetera e questo secondo me si paga anche ogni sindaco parla di territorio poi in realtà si ferma al suo paesino certo e questo è un errore grossissimo bisogna avere gli orizzonti un po' più ampi bisogna avere e fare gruppo cioè guardare le cose da insieme perché se no non porti a casa i soldi il problema è questo perché poi molto c'è anche il condizionamento della politica cioè i sindaci e questo è il problema il problema principale certo cioè ci sono esiste due modi di portare a casa i soldi uno è mandare a quel paese fare molto casino diciamolo pure e l'altro invece è seguir l'amico dell'amico e sperare mettersi in lista per cioè purtroppo noi paghiamo lo scotto di tanti errori fatti dalla politica negli anni nei decenni passati io dico sempre che e noi diciamo tra virgolette montanari ci siamo fatti sempre abbindolare dalla politica dai partiti dalle queste egemonie faccio solo un esempio quando sono entrato io nel 2004 amministrati del comune Piobbico su 67 comuni della provincia di Piesa d'Urbino 59 erano considerati montani cioè Calcinelli di Saltara rubava tra virgolette i soldi a Serravalle di Carda che si trova a 700 metri alle pendici del Nerone allora tant'è che io ho iniziato subito una battaglia in ogni assemblea dicevo faccio una proposta che i cittadini di Calcinelli vadano a abitare per un anno a Serravalle di Carda e qui a Serravalle di Carda per un anno a Calcinelli dopo un anno diciamo com'è andata dov'è che si sta meglio ricordiamoci che uno che vive nell'entroterra per mandare i figli a scuola spende 800 euro all'anno di Pullman per mandare l'Urbino spende per andare in ospedale spende poi magari gli anziani che non ci hanno perché poi i trasporti bisogna parlare poi della politica dei trasporti quant'altro se non c'hai nessuno parenti amici sei costretto a chiamare una vettura come si diceva una volta cioè noi abbiamo dei costi ricordiamoci anche un'altra cosa importantissima la battaglia dell'acqua quando sono entrato io nelle assemblee l'acqua a Pesaro la pagavano il 20% in meno che a Piobbico a Piobbico se facciamo un buco nella montagna viene giù l'acqua senza bisogno di pomparla manco di depurarla le faccio una domanda no aspetti perché dopo anni di battaglia almeno siamo riusciti a dire paghiamola come a Pesaro a Pesaro è aumentata del tot per cento meno perché sono di più quindi è aumentata del 12% e noi ci è diminuita del 7% per dire però abbiamo abbiamo portato la stessa tariffa in tutta la provincia di Peso Urbino ma questo era scandaloso e questa la politica ha commesso degli errori madornali io sono l'idea che a chi abita dentro nelle aree interne debba avere una tassazione diversa da chi chi costruisce una casa a Piobbico o a Belforte a Lisauro costruire una casa a Piobbico o a Pesaro i costi sono gli stessi cambia solo il valore del terreno però dopo dieci anni adesso che il mercato è un miliare fermo però dopo dieci anni a Piobbico vale il doppio a Pesaro valeva dieci volte di più quindi ci sono tutte delle disparità che vanno purtroppo va tutto calmerato ho capito io vedo che questa mezz'ora è volata abbiamo già mezz'ora gli ultimi sì sì incredibile abbiamo gli ultimi dieci minuti quindi ecco magari rapidamente affrontiamo diverse cose e parliamo al volo di sanità anche se di sanità non si può parlare al volo inutile che faccio la domanda che io ho copiato da lei quella dei famosi diecimila amministratori l'ha anche detta lei quindi questa l'abbiamo già vista posti letto stesso questo l'ha detto l'altro sindaco a lei concorrente cioè il fratello del sindaco Baldelli il discorso dei posti letto questa percentuale del 2,7 è Pesaro rispetto ancora a 4,6 cioè questo è proprio sì però Ancona devo dire che c'è l'ospedale regionale c'è l'ospedale regionale che tira su il numero di posti letto quindi bisognerebbe confrontarsi con le altre province che comunque sia sono sempre più alte perché mi pare abbiano mediamente il 3,3 nella provincia di Pesaro il 2,7 è qui che bisogna fare le battaglie in generale siamo comunque adesso senza fare demagogia siamo comunque in sofferenza siamo al nord delle Marche ma un po' sembra di essere al sud delle Marche è un nord ribaltato diciamo così poi soprattutto l'entroterra delle nostre valli da Pergola fino a qui insomma siamo proprio messi nella mia idea la prima cosa da fare era togliere la sanità alle regioni perché i danni che hanno fatto le regioni alla sanità sono inarrabili sarà mai possibile che l'ambulanza che viene a prendere il cittadino di Piobbico è obbligato a portare l'Urbino quando a pochi chilometri c'è un ospedale a città di Castello che funziona benissimo io tant'è che ironicamente in un'assemblea ho fornito tutti i cittadini di Piobbico di Rivoltella che quando gli prende il cocolone arriva quello che guida l'ambulanza e dice mi porti a città di Castello perché perché non è possibile andare in ospedali dove magari alcuni reparti funzionano molto bene e altri funzionano meno bene perché ricordiamoci che gli ospedali non lo si li fanno l'ambiente quindi i muri ma lo fanno anche le persone e le persone sono fondamentali nella gestione io ho fatto una battaglia mia da subito io da subito ho iniziato a fare le battaglie che oggi stanno cavalcando tutti quella contro l'ospedale a forse sei ore per me era un insulto a tutto l'entroterra perché io da Piobbico ho fatto i calcoli per arrivare all'ospedale a forse sei ore il 10 di agosto ci impiegò due ore in due ore io ho abbandonato tutti quindi è un insulto all'intelligenza umana all'ospedale a forse sei ore tant'è che adesso tutti quanti hanno fatto retromarchi peccato che prima hanno detto addirittura che veniva fatta la stazione ferroviaria a forse sei ore quando la provincia stessa aveva chiesto di spostare la ferrovia all'interno cioè qua stiamo facendo delle cose assurde assurde pur di giustificare degli errori che poi pagheremo tutti quanti noi faccio un esempio semplicissimo quando a Sarno ci fu la famosa frana di Sarno venne via anche all'ospedale e ci fu un grosso dibattito dove farlo se farlo a Sarno in centro cioè dove era prima oppure lo vogliamo spostare vicino al casello attualmente il migliore ospedale della campagna è Sarno Sarno che è in provincia di Salerno la gente parte da Caserta per andare all'ospedale di Sarno perché è nuovo funziona bene e ci sono dei medici bravi piuttosto che andare in centro a Napoli dove figuriamoci tutti gli ospedali preferiscono per una macchina fare 100 km di più però vanno in un posto dove quindi la sanità è fondamentale per poterla raggiungere in modo semplice per quello dico gli ospedali da che mondo in mondo si fanno vicino alle grandi artere le grandi infrastrutture quindi qualora si dovesse fare l'ospedale unico qualora si dovesse fare non ci saranno più i presupposti perché non ci sono più i fondi però va fatto in un posto che sia raggiungibile a me non mi interessa la cosa migliore sarebbe farlo ad esempio in zona Bellocchi di modo che c'è l'incrocio tra la Fano Grosseto la superstrada beh in un contesto quindi c'è appunto completare anche le superstrade perché da qui non ci arrivi lì sei già morto quattro volte e naturalmente completare una viabilità allora io dico questo cioè voglio dire lo devi raggiungere dovresti raggiungerlo in mezz'ora ma non lo raggiungi in mezz'ora un ospedale sì ma qua c'è l'ospedale di Polo che sarebbe l'ospedale di Urbino però anche l'ospedale di Urbino gli errori fatti dalla politica madornali quando l'ospedale di Urbino era in centro Urbino vicino al palazzo Ducale decisero di fare l'ospedale nuovo se avessero fatto l'ospedale nuovo in comune di Urbino però a Canavaccio avremmo chiuso Urbino il Vecchio Fossombrone e Cagli avremmo fatto di tre ospedali uno funzionale adesso ci troviamo con tre ospedali nessuno funzionale Urbino che è lassù che sta cadendo a pezzi Cagli che lo vogliono sbantellare e chiudere Fossombrone è la stessa cosa quindi ci troviamo con la sanità in ginocchio per colpa di scelte politiche fatte dalla politica sbagliate fatte dalla politica è per questo che dico cerchiamo noi dell'entroterra di fare squadra se non facciamo squadra noi dell'entroterra dove andiamo? Sa che noi stiamo lanciando una proposta dopo la campagna elettorale quando poi non ci guarderà più nessuno perché a nessuno gliene fregherà più niente noi lanceremo una proposta come tv la seguiremo saremo promotori di questo tra l'altro li andrà anche in televisione perché poi riprenderemo le trasmissioni sul digitale terrestre e proprio di cercare di riuscire trasversalmente alla politica quindi tecnici sindaci politici chiunque voglia fare senza guardare dei gruppi di lavoro settoriali proprio ovviamente legati all'entroterra una bella idea che ha dato un candidato precedente a lei è stata quella guarda che l'errore è quella di pensare soltanto all'entroterra pesarese invece ti sbagli perché se tu guardi nelle marche ed effettivamente ha ragione ci sono parecchie situazioni che sono molto simili alle nostre quindi fare squadra per gli entroterra cioè per creare poi una forte pressione cioè proprio creare dei gruppi di lavoro lei sarebbe interessato a una cosa del genere anche a prescindere se passa o meno certo ma le dirò di più noi abbiamo già istituito un gruppo di lavoro che non è un gruppo di lavoro è una progettazione europea e nazionale che è il famoso progetto ari interne il progetto ari interne prevede che dieci comuni della fascia che vanno da Piobbico a Pecchio diciamo la vecchia comunità montana più Pergola Sassoferrato e Arcevia hanno costituito questo e sono entrati nel progetto ari interne che è un progetto diciamo di studio che mira a valorizzare le potenzialità del territorio per consentire alle persone di rimanere aggrappate ai nostri monti perché tutti quanti si sono resi conto che l'Italia 60 milioni di persone vivono quasi tutte nelle coste nelle grandi città le pianure la montagna si sta abbandonando completamente appunto nessuno si sta rendendo conto se qualcuno tiene ai propri figli che li perdiamo tutti e stavolta non vanno più a lavorare a Milano vanno in Australia se ne vanno molto lontano stavolta cioè siamo tornati paradossalmente agli anni vecchi esatto ma con una differenza che allora i nostri nonni partivano in condizioni incredibili però avevano bene o male arrivavano lì avevano un lavoro erano sfruttati eccetera però avendo un lavoro poi piano piano i tempi sono cambiati oggi stanno bene ma i nostri figli invece vanno all'estero in Australia ma non è detto che trovino il lavoro c'è quindi una situazione assolutamente paradossale ok noi abbiamo finito il tempo quindi ovviamente avremmo potuto parlare per settimane per settimane magari poi ci vediamo ancora e se la vengo a trovare anche io direttamente sul posto non è un problema quindi io come tutti gli lascio la classica voce fidale per quale motivo dovremmo votare a lei a questo non ero preparato questa è la domanda chiaramente più difficile no e per allora come ho ribadito prima con la sparizione delle province noi rischiamo di ritrovarci senza alcun rappresentante del nostro territorio dell'intrattare del nostro territorio e trovarci senza rappresentanti poi dopo ci si lamenta sempre dopo ritengo fondamentale io ho dato dimostrazione con l'amministrazione di Piobbico sia nella vita privata perché ho lavorato come dicevo prima il mio primo consiglio comunale è stato quello di insediamento non avevo mai visto un consiglio comunale prima e mi sono messo a disposizione della mia comunità l'ho fatto con passione la gente mi ha premiato quindi ho dimostrato sia nella vita privata che diciamo nell'impegno amministrativo la mia serietà onestà perché bisogna dire anche questo perché quindi serietà onestà e capacità e ho messo a disposizione del mio territorio tutte le mie conoscenze tutto ciò che il mio bagaglio di conoscenze il mio bagaglio culturale che mi ero tirato fuori in 40 anni di vita e vorrei continuare a lavorare per un territorio più ampio che non è più il comune di Piobbico ma è l'intero introterra per rappresentare le nostre istanze perché veramente abbiamo bisogno di qualcuno che di qualcuno che poi relazioni anche al territorio perché io come ho sempre fatto non è che qualora dovesse venire eletto poi sparisco per 5 anni mi rifaccio vedere pagando una pizza al quinto anno no io penso di fare quello che dicevamo prima un coordinamento tra tutte le persone interessate dell'entroterra per fare dei gruppi di lavoro e per poi andare a dialogare con le istituzioni di Ancona e un'altra cosa che tenevo molto anche è riuscire a questa qua è una diciamo una versione un po' più politica del messaggio che voglio dare riuscire ad ottenere tante preferenze per poi andare a dire la mia e cambiare quello che è la mia area di appartenenza cioè il centro-destra cioè cercare di cominciare a far comandare il territorio anche a Dancone e perché no anche a Roma così nato che io tra l'altro sarei anche residente a Roma quindi i miei legami spaziano da Piobbico anzi da una frazione di Piobbico alla capitale quindi mi posso permettere di giocare su più tavoli benissimo grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.